Sono Rosanna Tezzon, sono sindaco da un anno e mezzo, chi mi ha preceduto è qui accanto a me e si occupa di protezione civile ed è il referente del Com di Ibrea. In aspetti diversi, sotto due aspetti diversi, però ci occupiamo entrambi di sicurezza, di safety in questo caso. Devo dire che io perlomeno in qualità di sindaco ho una gran fame di contenuti perché mi sono trovata in questi ultimi mesi ad affrontare, ad organizzare insieme alle associazioni del paese, il mio è un piccolo comune, sono un po' meno di 1700 abitanti, che vive gli stessi problemi dei grandi comuni. Devo dire che molto spesso come sindaco mi sono sentita profondamente sola, sola perché chiedi a destra, ti dicono a destra o a manca, chiedendo a destra chiedi le cose, ti danno una spiegazione, le chiedi a manca e ti danno la spiegazione esattamente contraria. Chi ti dice si fa in un modo, chi ti dice si fa nell'altro. È molto difficile trovare delle risposte univoche, ma soprattutto è molto difficile trovare dei comportamenti uguali, anche tra colleghi sindaci. E questa è la cosa più difficile, perché è sicuramente più facile non far nulla e lasciar fare. Io ritengo che i cittadini e le associazioni abbiano bisogno del nostro aiuto, per cui mi metto in prima persona a dare una mano, però a mia volta chiedo aiuto. Questa mattina devo dire che sto trovando finalmente un po' di risposte. Come diceva il mio sindaco, molte volte i sindaci si trovano soli. Lei è fortunata in questo momento perché comunque la sensibilità è aumentata anche da parte di Anci, perché in passato forse non c'è stata questa sensibilità, quindi ben vengono iniziative come queste. Grazie a tutti.